quel pallone rimbalza due volte finché giunge da bianchini che ha una piovra oggi nel carpirlo mosciotti a giro super goal di stefano mosciatti collo interno sinistro all'incrocio dei pali 4 a 2 dell'atletico fiumicino col suo giocatore più rappresentativo viscomi è andato da mosciatti l'1-2 che si chiude con mosciatti l'incrocio dei pali sarebbe stato il gol dell'anno in vantaggio di tre reti mosciatti se ne va sul fondo e la mette dentro mosciatti di bernardo con i piedi da applausi le giocate del 7 sari ci riesce invece bianchini che va dal solito mosciatti gran proprietà per mosciatti anche nei cambi di gioco qui il compagno non stoppa bene esce egizio e quindi mosciatti cambio di passo altra giravolta padronanza completa e visuale mappatura di tutto il campo per mosciatti e poi a longi va a sbagliare l'assist ancora illuminante però il numero 7 di mastro pietro qui problema qualche scossa dal sestamento nei primi minuti questo non sta evitando la sconfitta alla pisana e attenzione al calcio d'angolo nessuno sul primo palo de bernardo alza il piede è 6 a 2 assegnato ancora stefano mosciatti lo stop col petto fa fuori un avversario e prova col sinistro l'arbitro indica il calcio d'angolo questa la parata di bernardo destro non è il suo piede riesce comunque a premiare a largo un compagno è buono l'assist per mosciatti ma di bernardo lo ipnotizza che parata del guanto d'oro